Adolescenti, maneggiare con cura, questo è il titolo del libro che vi presentiamo questa settimana a Tra le Righe, libro edito da Ancora Editrice, firmato da un pedagogista di grande esperienza che ritorna in collegamento Skype con noi, il professore Vittore Mariani, autore di questo libro, un manuale per genitori ed educatori. Bentrovato professore, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Ci siamo sentiti qualche anno fa perché, appunto, in occasione della prima uscita di questo libro, che ritorna in una nuova edizione aggiornata e ampliata. E allora, comunque gli adolescenti vanno sempre maneggiati con cura. Quali aggiunte sono state fatte al suo libro? Anzitutto è stato rinforzato il concetto del pensare pedagogicamente per la promozione dinamica integrale della persona e quindi per un progetto persona, chiarendo bene quelle che sono le tappe della vita, cioè dalla fanciullezza all'adolescenza e quindi all'età giovanile fino ad arrivare alla maturità umana, che non è solo un'età adulta, una grafica, ma è riuscire ad entrare in quella che noi chiamiamo la cultura, concretamente nella quotidianità e nella progettualità, quella che noi chiamiamo la cultura del dono. Quindi un essere umano che si pone su un piano di libertà responsabile per un amore oblativo. Questo deve essere chiaro per un progetto persona per impostare tutto un discorso educativo, se no i pericoli sono evidentissimi, che sono quelli di ridurre l'educazione a istruzione, cioè ad addestramento, l'acquisizione di conoscenze, autonomie e abilità, o a formazione come integrazione passiva all'interno della società. L'essere umano e soprattutto i giovani sono chiamati a entrare attivamente nella società e diventare agenti di cambiamento innovativo e costruttivo per la città dell'uomo. Quindi la nostra è una proposta chiara e il testo va ad affrontare, anzitutto in maniera aggiornata, perché pensiamo ad esempio a tutto il discorso dell'utilizzo delle nuove tecnologie e anche dell'utilizzo di quelli che io chiamo gli aggeggi, che sono poi i nostri cellulari ormai con tutte le potenzialità che hanno, il computer, l'internet, e che la situazione nel giro di pochi anni è notevolmente cambiata. Inoltre c'è un approfondimento anche su quelle che sono le cosiddette agenzie educative, con un occhio particolare, sia alla scuola per quanto riguarda il contesto civile, sia agli oratori per quanto riguarda il contesto ecclesiale. Molta interazione. E si chiarisce anche molto bene, tra l'altro, il sottotitolo l'abbiamo cambiato, ed è diventato un manuale per genitori ed educatori, l'importanza dell'educatore, degli adolescenti con tutte le sue caratteristiche e pensando pedagogicamente il supporto agli educatori che è rappresentato, quello diciamo modestamente, da noi pedagogisti. Professore, mi ha colpito il capitolo 9, pagina 85, partendo dal fatto che comunque gli educatori oggi sono i genitori, sono gli insegnanti e sono i catechisti, pensiamo appunto alle parrocchie, agli ambiti ecclesiali. Questo capitolo si intitola Tempi e modi della comunicazione delle proposte agli adolescenti. Rispetto, appunto anche dall'alto della luce della sua esperienza, rispetto a dieci anni fa, che poi non sono neanche tantissimi, perché parliamo del 2009, è cambiato il modo in cui oggi gli educatori, i genitori, i catechisti, devono approcciarsi ai giovani, il modo di comunicare ai giovani e con i giovani? Ma io direi che sostanzialmente, possono essere cambiati, eventualmente possono cambiare in qualche misura, in qualche modo gli strumenti, ma le caratteristiche dell'educatore di adolescenti rimangono sostanzialmente le stesse, che vuol dire anzitutto l'accoglienza valorizzante e personalizzante. Quindi la persona è importante che si senta accolta, e quindi che ci sia un'accoglienza che è intrisa di benevolenza, cioè di una ricerca del bene della persona senza strumentalizzazioni e senza rancori. Questa è la vera strada per poter educare gli adolescenti anche oggi, perché oggi per esempio si enfatizza molto con tutto l'ambito che è pure importante della comunicazione cosiddetta virtuale, ma al di là di un'educazione all'utilizzo di questi nuovi strumenti e alla loro evoluzione, dovremmo educare per primi gli adulti, autoeducarci noi per primi, ma ciò che diventa importante è mantenere quello che è la caratteristica dell'adolescente, che è la sua ricerca di progettualità propria e lo sviluppo di quel grande potenziale che è dato dalla capacità critica, cioè dal discernimento tra il vero e il falso, il bene e il male. Se noi lavoriamo su questo andiamo dalla polemica e dalla trasgressione, che sono tipiche espressioni apparenti degli adolescenti, attraverso un rapporto con adulti che impostano il rapporto in una maniera approfondita basato sull'ascolto, il dialogo, la discussione, l'approfondimento, noi portiamo l'adolescente davvero a chiedersi il perché delle cose come forse nel mondo e a quali scelte fare e quindi al discernimento anche nelle relazioni, nei rapporti e nella comunicazione. Quindi è un'impostazione che sostanzialmente rimane universale. Io non vedo dei cambiamenti. I cambiamenti sono i cambiamenti di oggi, di quelli che sono gli strumenti, ma noi dobbiamo tenere presente che gli strumenti non sono sostanzialmente determinanti. Determinante è la relazione che noi riusciamo a impostare con le persone e ciò che noi riusciamo ad attivare nella persona stessa. L'adolescente nel suo sviluppo psicofisico non è solamente un corpo che cambia, ma è una persona che inizia a ragionare davvero con la sua testa e noi dobbiamo certamente puntare a questa grande possibilità, che è la possibilità poi di progettare la propria vita all'interno delle comunità di appartenenza e nella comprensione di quella che è la realtà sociale in cui la persona si trova collocata. Noi dobbiamo lavorare per queste cose e cercare di far maturare nella persona la ricerca dei valori, cioè di ciò che davvero vale nella vita. Questo, a mio parere, rimane determinante. Quindi non focalizzerei l'attenzione su, anche se sono cose importanti, di cui sotto un aspetto soprattutto formativo, come per esempio l'utilizzo di internet, per il quale certamente potrebbe svolgere un ruolo importante anche la scuola, rivedendo i propri programmi, perché sia davvero una scuola che permetta alle persone di maturare delle conoscenze in una maniera tipica dell'adolescente critica, ma noi dobbiamo lavorare soprattutto sulla educazione verso l'auto-educazione della persona, cioè di una auto-accoglienza, di un auto-sviluppo delle proprie potenzialità umane verso quella che deve essere una comprensione della realtà che poi ognuno vivrà originalmente. Però le caratteristiche dell'educatore e degli adolescenti rimangono sempre le stesse, cioè l'apertura soprattutto a un dialogo problematizzante, criticizzante, che permette alla persona di conoscersi, di rendersi conto della realtà, di progettare verso scelte, verso finalità che diventano determinanti per un proprio modo di collocarsi propositivamente nel mondo. Dialogo, relazione, comunicazione. Tante volte mi capita di parlare con mamme, con amiche, di figli adolescenti. E il filo conduttore, un po' un sentore comune, è quello, beh, in questa fase mio figlio, mia figlia non mi dà ascolto, beh, passerà, è un momento della vita, ci siamo passati tutti. È come se tendessero un po' a sminuire questa fase, io credo, importante della vita di ciascuno che è la fase dell'adolescenza prima e dell'adultescenza dopo, no? Anche se si sono un po' dilatati i tempi. Ecco, volendo proprio essere pratici, perché questo è un manuale per genitori ed educatori, che cosa fare e che cosa non fare? Proprio come delle indicazioni, professor Mariani. Sì, io ho un'indicazione che ritengo fondamentale. Cosa fare? Mantenersi in un atteggiamento di ascolto anche quando, e un atteggiamento di proposta anche quando sembra che dall'altra parte non ci sia alcun riscontro. Questo è l'atteggiamento fondamentale dell'adulto educatore, che non gira la testa da tappate. Quello che non deve fare è certamente chiudere i rapporti, perché pensa che non ci sia una relazione in atto. In realtà la persona che in una fase di crescita i primi che guarda sono sempre coloro che ha intorno e quindi in particolar modo i genitori, che rimangono punti di riferimento fondamentali anche se non sono esplicitamente citati come tale da parte dell'adolescente. Quindi non bisogna cadere nel giro la testa dall'altra parte, porto rancore perché la persona non mi dà alcun ascolto, non segue quelle che sono le mie proposte, quelle che sono soprattutto le mie aspettative, entro in una relazione che vede una persona che cresce, che sceglie, valorizzo le sue scelte, non drammatizzo i suoi errori, non mi pongo in un atteggiamento soprattutto di ricatto affettivo del tipo ti voglio bene se, che è la cosa più tremenda che possiamo mettere in atto e che purtroppo tante volte viene messa in atto anche tra adulti che non hanno sviluppato e non portano avanti un discorso di autoeducazione nelle relazioni con se stesse e con gli altri, per cui si finisce centrati su se stessi e questo essere centrati su se stessi da parte dell'adulto diventa deleterio anche per la persona che sta crescendo. Quindi il messaggio che noi possiamo dare in maniera chiarissima è quello di dire manteniamo la porta sempre aperta incondizionatamente. Questo deve essere l'atteggiamento dell'adulto maturo e in fondo la maturità sta in questo, sta nella coscienza di essere educatori, cioè coloro che si pongono anzitutto con le braccia aperte in un atteggiamento di accoglienza che diventa sicuramente poi un'accoglienza progettuale perché si riempie anche di pareri, di consigli, di proposte quando c'è l'opportunità di darle. Sapendo benissimo che anche quando si danno e sembra che non vengano accolte poi sicuramente dall'altra parte c'è un ascolto, c'è un ripensamento e se le proposte sono proposte sensate dall'altra parte poi c'è una riflessione che può portare anche parzialmente ad accoglierle, magari non nei tempi che pensa l'adulto. Certo, ma nei tempi appunto dell'adolescente e del ragazzo. Vorrei ricordare nuovamente il titolo del suo libro, edito da Ancora, Adolescenti maneggiare con cura, manuale per genitori ed educatori, firmato dal professor Vittore Mariani e la nuova edizione aggiornata e ampliata. Vorrei ricordare anche un altro libro sempre pubblicato per Ancora, Sbiellati dall'agitazione alla progettualità. Questo libro è disponibile anche in ebook, se non lo volete cartaceo, lo volete appunto in formato elettronico da tenere sul vostro pc. Grazie per la disponibilità, professore, per il tempo che ci ha dedicato, grazie per questi consigli e alla prossima occasione, al prossimo libro, perché no? Sempre grazie a voi di cuore.